Santuario del Divino Amore a Roma 7 gennaio 2015, siamo ai funerali di Pino Daniele, decine di migliaia di persone sono venute non solo da Roma ma anche da Napoli, ci saranno i funerali anche a Napoli alle ore 19 di oggi, la notizia di oggi è che è stata aperta un'inchiesta, due inchieste dalla procura, sembra anche per omicidio colposo, per andare ad accertare e vedere un attimo cosa è successo esattamente la notte in cui è morto Pino Daniele, ecco vedete tantissime persone, qui ha una struttura enorme, un santuario grande, importante a Roma, nei pressi di Roma, ci sono tutte le televisioni e ci sono tantissime, già migliaia di persone a corse, ecco qui ci sarà il passaggio del feretro probabilmente, ecco vedete in questa strada e andiamo parecchie macchine come potete vedere sulla collina intorno al santuario, anche parecchia mobilitazione di ordine pubblico ovviamente e saliamo un attimo qui per dare un colpo d'occhio.